per il futuro. Fra l'altro a Beja, che è un'antica e importante città del Nord Africa, Fibonacci è noto, Fibonacci Pisano, il grande matematico, è noto che andò ad imparare la matematica e l'algebra per esportarla in tutto l'Occidente. A Beja ritorniamo a ringraziare l'imprenditore Rebrabbe di questo importantissimo investimento, del suo coraggio, augurandoci il meglio possibile per l'Africa del Nord e anche per la Toscana.